Ciao, sono Lorenzo, il manager di vendita italiana LUT Professional. Sono Valerio Gerubini, il manager general, il costruzionatore e il designatore dei nostri sistemi. Il top della gamma di rientra e distribuzione è il 112 metodo di linea externa e midrange. L'arraio di linea, lo vedete sul top della nostra stand, la musica musica di Frankfurt, sul terzo di partecipazione della nostra partecipazione. Il nostro catalogo di prodotti, il nostro catalogo, comincia dal sistema di installazione per andare al big touring con il nuovo prodotto. Lo vedete qui, il double 12 line array. Questo è il medio per il nostro catalogo. Abbiamo il 112, questo è il double 12. Abbiamo un monstro, il double 15. Grazie per il vostro tempo. Have a nice day.